Voglio fare foto Non mi ricordo come si fa Perché sei uscita? Perché tu mi hai detto F12, non è F12 Capito, ma F12 mica ti fa crashare Sì, perché mi metti in modalità aereo Ma? Ma? Io ho la bambolina della guida Adesso la butto nella lava Raga, ti diamo il pipito Tutti quanti, dai, sì Dove sei valente? No! No, 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 no No! Ma? Loris sta prendendo una cazzo di pausa, ok? Però c'è un limite a tutto Ha detto che Eh, prendo un caffè e arrivo, dormivo Sì, ok Sono passati 20 minuti Che cazzo ti stai bevendo, la caffettiera? Allora ragazzi Sincome Lorenzo non viene Noi andiamo nel nether, va bene? Andiamo Ma è eclissi solare Aspettate, aspettate un secondo Cos'è sto casino? No, è che sei entrato tu, lori E quindi si sono emozionati tutti Minchia, vero? Si è smosso qualcosa Dobbiamo prendere il nuovo minerale Che ha fatto spawnare Yaron Si chiama Auric Bar Dove sei? Perché sono qua? Ma che cazzo? Bea ti ha trasportato Dai che non mi fate trasportare il caffè La madonna Vale, vale, vale Ascoltami Mentre che non ci sentono Chi pensi sia il più sfigato dei due? Oh mamma Lori perché non ci fai? Adesso però andiamo a raccogliere il minerale Ok? Andiamo, andiamo, andiamo L'ho trovato, l'ho trovato Ma fa delle vene giganti Ma che cazzo? Ma che cazzo? A toccarlo A toccarlo però Aia 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 Oh raga sto morendo Dai vieni vale Ti trasportati a me Oddio Oh la bruttina Vale è morto Ma è morto? Si Ma come fate? Ma perché io ero appeso qua sopra Ma voi vi siete trasportati tutti convinti Minchia sono morto Lori Loll Per evocare questo boss Mi è stato richiesto craftare Una cella aurica quantica di raffreddamento Ma che? Quindi io adesso non ho idea di che cazzo esce fuori Allora siamo tutti bellini Pronti I cavalieri Con l'armatura Piazzo la cella Mi dà contatta Contattiamo Oh che cazzo Che fa? Uh Ehi Chi è? Tridon Allora ho aspettato molto questo momento La tua natura mi affascina Ma non la capisco Affronterai la mia creazione Che ha sorpreso Dio Ora scegli Allora il primo è Thanatos Una serpentina del terrore Praticamente un'armatura indistruttibile E innumerevoli torrette di laser Allora Ares Un pesantissimo Diabolico Mostroso Con quattro exo super armi Ok E poi c'è Artemis e Apollo Una coppia di persistenti e estremi auto Autobi Con energie instabili e distruttive Boh ragazzi non so cosa dire Gli è da piangere Ho premuto Oddio 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 Che cazzo è No ragazzi Che cazzo è morto Oddio Oddio No ragazzi è un gioco morto Lui sta attaccato al player Cioè si fissa su un player E poi sta fermo su di lui Oddio Apollo Ah Gli altri 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 The twins The twins No c'è anche C'è anche il Thanatos C'è anche il vermone Sono morto Mi ha distrutto la vita Io sto cercando di capirci qualcosa Però Allora i laser Non fatevi intimorire dai laser Perché sono morto Ecco perché Raga c'ho tutto addosso io Per favore Per favore Ah c'è C'è Drydon che ci segue Tra l'altro Non so se avete notato Secondo me nel video Non si capirà niente Eh vabbè cazzi loro Se lo guarderanno lo stesso Ah raga c'è solo Ares adesso C'è solo Ares Eh infatti sto facendo il culo Vai Che cazzo raga Cosa Ma che cazzo è sta storia Raga gira velocissimo Raga 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 Di nuovo Vai che muore prima Vai che muore prima Vai 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 Spara 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 No raga Minchia una giostra Sembra il calcio in culo raga Raga No 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 Non ci sono io Chi c'è chi c'è Nel cielo nel cielo Sono da solo Sono da solo Merda culo Merda culo Sono anch'io No Ok Occhio beh i laser I laser È morto Ok Ares è morto No Melinda Melinda No Porco di quel cane Ma vale ma Secondo te Sto boss qui In inferno Come cazzo è No non voglio Non voglio saperlo Siamo in due ari Ogni volta che vai col cursore Su una scelta Fa un rumore diverso 3 Vai 2 1 Via Help me 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 Raga Raga io Non voglio Questa è la boss fight Più meme Che io abbia mai visto No raga Porca p***a Nel c***o Ci siete voi tre Cheat Morto Guarda Guarda Viatrice Bella Bella Goofy Goofy Stai sotto il tetto, non mi colpisco ZITTA! La manzetti T'ho morto, t'ho morto, petti di vita, t'ho morto Raga è morto Thanatos Raga super focus, raga super focus No concentratemi, ci sono solo tu quei due vaberi Ragazzi stai scoppiando Vai 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 Sono morto ?! SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Mamma mia che boss di me Nou non sono infarto Arrivo aspetto non ti vedo No ce lo voglio anch'io Mamma mia Guarda come si vola bene Ah ma non guarda Fighissimo Di tutte le spade che abbiamo craftato Ok c'è Murasama Arc of the cosmos Ataraxia e va bene Questa qui è semplicemente La spada più figa che esista La exo blade Non esiste nessun altro obiettivo Se non lei Strega suprema calamitas Ah questo è l'altare Dopo questa cosa Non c'è più niente che ci separa Da diventare Gli esseri più potenti Di questo maledettissimo universo Quindi pronti per affrontare La strega suprema calamitas Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti